Un nuovo successo, un nuovo scontro diretto vinto in trasferta e adesso sì la classifica consente di respirare. Il Crema 1908 torna da Castellanza con tre punti d'oro che posizionano i nero bianchi a un passo dalla salvezza diretta. Un mese fa forse nemmeno il più ottimista l'avrebbe pronosticato. Il quarto risultato utile di fila, due pari interni con le big del girone e due vittorie esterne, passa dal gol di Ferretti così come a Ponte e San Pietro che in avvio di gara scalda il piede sinistro e dalle parate di Ziglioli. Anche Rinaldini si muove bene e trova pronto Cincilla sul diagonale. Lo stesso numero 11 si mangia un gol fatto quando, servito dentro da Ferretti dalla sinistra, alza la mira porta praticamente spalancata. Ziglioli invece deve impegnarsi dall'altra parte del campo sul tentativo dritto per dritto dopo controfuga di Ferrandino. Rinaldini è paradossalmente troppo sportivo quando sull'uscita così così di Cincilla resta in piedi e non cerca quello che poteva essere un facile rigore. La gara si mantiene vive e vivace, entrambe le squadre cercano il gol senza timori dettati dalla classifica ma manca la giusta mira. Nella ripresa Ziglioli dice subito no alla conclusione di Chessa mentre non deve sudare troppo su Colombo. Le prodezze decisive arrivano dopo il ventesimo. Ziglioli fa il miracolo nell'uno contro uno su Perego che però entra troppo facilmente in area. Ferretti prima impegna Cincilla, poi serve a Rinaldini lo sparo che ancora una volta il portiere di casa riesce a disinnescare. Il gol comunque è maturo e chi può segnarlo se non Ferretti? Cocci, Poledri e Ferretti, forse i tre uomini più in forma assieme al portiere Ziglioli, cingono da sedio l'area locale. Alla fine la stoccata del 9 vale i tre punti perché dopo che Cincilla disinnesca per l'ennesima volta a Rinaldini c'è spazio e tempo solo per un ultimo gigantesco spavento. Michele Mandelli al novantesimo ci prova da fuori e trova la traversa. Serve anche un po' di fortuna ma come conferma mister Stefano Bellinzaghi nel dopogara la strada è quella giusta. A me è piaciuto molto il primo tempo perché siamo stati intensi e abbiamo espresso una buona qualità di gioco. Il secondo tempo secondo me dopo il gol fatto abbiamo avuto un po' di braccino e quindi ci siamo resi pericolosi soprattutto in contropiede e non con la manovra ma sono assolutamente d'accordo che abbiamo fatto 90 e passa minuti di buon livello. Abbiamo avuto un paio di situazioni importanti per sbloccare la partita, questo non è successo. Di solito partite così poi dopo magari ti castigano al di là dei tuoi demeriti e invece sono molto contento del fatto che siamo stati in partita, che abbiamo trovato il gol e l'abbiamo vinta con merito secondo me. Noi stiamo facendo un lavoro in settimana giusto. È chiaro che queste settimane in cui non hai la partita al mercoledì lo riesci a portare a termine come lo vorresti fare, la settimana piena. Quando ci sono le partite infrasettimanali forse un pochettino l'abbiamo pagato ma devo dire che i ragazzi hanno sempre risposto agli stimoli che noi abbiamo dato con grande abnegazione e con grande disponibilità anche nei momenti in cui i risultati erano un po' meno buoni di adesso.